Eccoci con il Presidente del Treppini, Marcellino Pepe, smaltita la delusione per la mancata promozione. Sì, assolutamente sì. Abbiamo passato gli ultimi dieci giorni ancora in fase di riprogrammazione, di messa a terra di un progetto attualmente diverso. Abbiamo subito, io dico chiaramente, un'ingiustizia da parte della giustizia sportiva e ci ha costretto comunque a un continuo ripianificazione della nostra azione di società. Oggi però, insomma, posso dire che ad oggi siamo pronti per fare l'eccellenza con la Serie D, che era stato un sogno, passato, e speriamo solo di vincerla fra qualche mese, nel 2017, davanti a 2.000 tifosi a Sepicciano. Quando riprenderà la preparazione della squadra? Allora, la preparazione è preciso non so ancora, perché tutto dipende da come si organizza la squadra a livello tecnico. Penso comunque non facciamo passare dieci giorni da oggi, quindi tra la prima e la seconda settimana di agosto, penso. Il napoletano, come sostituirlo? Ma il napoletano, se vediamo il numero di gol, insomma i numeri di napoletano, probabilmente è insostituibile, lo dico chiaramente. Se invece vediamo la sostituzione come un altro giovane di prospettiva, che si inserisca bene all'interno del gruppo, e che faccia reparto con Di Matteo e con tutta la squadra, allora significa... Chi potrebbe essere? Ma come nomi ne stiamo vedendo tanti, voglio dire, c'è chi ci ha soddisfatto e chi meno, ma alla fine sarà un nome che, anche se sarà sconosciuto e più, ma punteremo sicuramente su un giovane, e quella è la nostra prerogativa. Poi, se non sarà possibile prendere un giovane, allora sarà un attaccante senior che avrà già un curriculum dietro di sé di tutto rispetto. Comunque cerchiamo di mantenere il livello tecnico simile, se non superiore, rispetto all'anno scorso. Un portiere? Il portiere serve assolutamente, ne approfitto per salutare Claudio, il nostro più che amico, che giocatore, che è tornato a Bari, ma tra l'altro non sappiamo ancora, voglio dire, se sarà riconfermato o meno. Comunque sì, il portiere lo stiamo cercando e abbiamo già una lista di 3-4 nomi tra i quali scegliere. Patato bollente allenatore? Sì, ho appreso dalla stampa le dimissioni di Mr. Moore, la cosa ci rammarica tanto, anche perché la stima verso Mario è immutata. Non finirò mai di ringraziarlo per quello che ha fatto e se qualcuno può insinuare che nel calcio non ci sia riconoscenza, io penso che qui nel Treppini sia un caso a parte, perché la riconoscenza c'è, a prescindere da come vadano le cose, a prescindere dai ritardi nei colloqui e oppure i ritardi nel farci sentire come società, anche perché abbiamo subito tanti eventi nuovi che insomma abbiamo gestito probabilmente, potevamo gestire meglio, ma comunque le dimissioni mi rammaricano. Ho parlato anche di soluzioni e tra queste soluzioni c'era nella rivoluzione totale del settore tecnico, noi avevamo anche in caldo, anche probabilmente, una sostituzione della guida tecnica, ma come non ce l'avevamo? Avevo fatto stesso a voi, avevo detto 50 e 50, ma voglio dire era una percentuale per indicare almeno quantisticamente una soluzione dove abbiamo colto il problema e che dobbiamo dare una scossa o in una maniera o in un'altra dobbiamo darla. Con questo le voci, che non fanno parte del mio essere né della nostra società, mettere voci in giro nel paese perché è l'ultima cosa che facciamo, però in qualche maniera sono uscite, il mister ce l'è rimasto male, la cosa mi dispiace tanto, però voglio dire, spero di avere subito un colloquio con Mario per chiarire il tutto, comunque insomma stiamo ecco in questa scossa che vogliamo dare alla squadra, stiamo ancora lavorando affinché questa scossa ci sia e sia di effetto. Per Casetta Sera, Emilio Bianchi